e vai ci risiamo ben ritrovati oggi oggi torniamo a grande richiesta a parlare di una cosa importantissima perché molti hanno dei dubbi non so perché perché l'argomento è talmente semplice però parliamo di falso rimbaso prima perché è la cosa veramente più importante quindi rappresenta il 90% del bonsai no quindi fermi se state leggendo su google le varie linee guida sul ph sull'osmosi sulla concimazione su quello che volete mi fermate perché se da una pianta che sta in un posa cenere c'era un baso così non potrà mai funzionare ok prima di iniziare con questo video finalmente c'è il video corso sulla potatura autunnale gratis sul mio sito ok quindi ogni ordine effettuato questo mese poi questo dopo questo mese non c'è più vi da in omaggio questo video corso che vi servirà un sacco per non fare cazzate sui vostri ciclamini ok quindi in parte a mettere mano in parte con le forbici a tagliare dove dovete tagliare e in parte a preparare la pianta per la potatura poi dopo quella primaverile perché molti dicono no io non faccio niente notturno tanto tutto in primavera sì ci può stare come discorso però se già mettete la pianta in condizione di vegetare bene dove volete voi ovviamente vincete la corsa sul tempo ok quindi la pianta già pronta la pianta che fa subito le gemme da dietro anche dove non ci sono perché se è fatta la potatura solo primaverile ovviamente la pianta da lì poi dopo crea le gemme magari dietro a legno magari ve le fa per giugno ok quindi a me mi interessa invece che le faccia a febbraio quindi taglio adesso preparo quindi a febbraio a marzo quello che sarà aprile la pianta mi apre già le gemme che non ci sono perché me le crea e me le apre ok quindi importante è un video importante ragazzi ok guardatelo e grazie che cazzo volete comprate due cazzate sul sito e vi arrivo direttamente sulla vostra mail falso rinvaso ragazzi non se ne può più e per carità qualcuno di voi hanno appena iniziato ne offri ci sta andate sul mio canale scrivete falso rinvaso ma anche su youtube in generale falso rinvaso claudio bonsai vi viene fuori gesù cristo in croce con gli apostoli cioè viene fuori tutto ok quindi mi raccomando fondamentale sapere ste cazzate perché di cazzate si tra sono delle cose basilari che vi servono perché perché se avete una pianta che sono un vaso piccolino così non posso accendere non potrà mai vegetare quindi la prima cosa da fare è metterla nelle condizioni poter star bene quindi quando comprate una pianta in un di quei viva i centri autorizzati centri specializzati che comprano le piante del cazzo a 2 euro luna in batteria arrivano lì ve la vendono poi dopo due settimane muoiono perché perché sta in un vaso piccolissimo con un terriccio che fa cagare e quindi non siete voi che non avete il pollice verde ma sono loro che vi ha venduto una cosa che non è compatibile con la vita semplicemente è come tenere il mio gatto sott'acqua non è un pesce muore oppure un pesce lo tenete sopra l'armadio no di caso quello si muove un po' a un certo punto wow no io non sollevare no sei un coglione ok scusate cosa fare su queste cazzo di piante comprate scusate sul telefono che dai numeri semplicemente comprate un olmo o un acero le prime piante a comprare sono quelle secondo me le comprate in dei vivai generici normali così le pagate il giusto tanto iniziate fate i vostri esperimenti quelle prime piante le prime due piante possono anche essere così un po' del cazzo no se stare in un vaso piccolino prima cosa da fare è tirarle su e mettere subito una ciotola più grande con del substrato specifico quello che trovate sul mio sito se volete il top prendete supremacy non c'è non c'è di meglio ok quel terreno lì lo usate così com'è non dovete aggiungere altro così non diventate scemi non dovete prendere altre cose perché molti mi dicono devo fare un fondo sotto no sei il mio terreno sei a posto non serve altro serve solo sfagno da mettere in superficie quello vi serve soprattutto in inverno ma anche in estate così i capillari quelli che stanno sopra non si bruciano ok non si rovinano perché tra vento e sole si vanno a rovinare questa operazione vi garantisce non solo di avere un contenitore più largo e quindi la pianta che da lì in poi potrà avere energia perché tanto voi parlate di bonsai ma avete il pre bonsai avete una pianta che fa cagare in un vaso che piccolino così deve crescere e buttare fuori i rami quindi ascoltatemi bene sul mio sito c'è tutto c'è veramente tutto ci sono i vasi un po più larghi poi ovviamente sono una pianta che è già in un vaso così i miei arrivano fino a 40 centimetri prende una ciotola in un cazzo di vivai dove volete voi non cambia tanto ok però falso l'invaso cos'è tirate sulla pianta così com'è in quel terriccio che fa cagare è una manovra praticamente d'emergenza si fa per andare a tamponare track se il terreno è buono la pianta così l'avete presa e così andata a metter il nuovo contenitore più largo sotto ci mettete substrato specifico appoggiate sopra e lati andate a chiudere col substrato specifico e siete a posto ok se la pianta invece ha un po di terriccio che fa cagare ed è sempre così perché ovviamente nel vivai non possono vendervi una pianta da 5 euro dentro un substrato che costa 30 euro come il mio è ovvio che non può essere così ok tirate su rastrellino giusto due toccatine giusto da liberare le ultime radici e c'è bisogno due sforbiciate giusto per andare a pareggiare e poi uguale mettete questo cazzo di vaso più largo e andate a rimboccare col substrato nuovo quanto tempo può rimanere la pianta lì per sempre ragazzi avete un substrato che è perfetto cioè è granulare se lo schiacciate non si spappola rimane granuloso ok quindi mantiene le sue caratteristiche inalterate nel tempo e quello è dopo da lì in avanti non fate più ribasi punto sulla pianta sta bene non fate più niente si rimase la pianta soltanto quando buttate l'acqua sopra e l'acqua non scende più però attenzione se annaffiate l'acqua non scende più prima prendete un rastrellino grattate sopra e basta e riprovate se l'acqua scende a posto e un altro anno può andare tranquillo quindi per quelli che fanno il corso sul rinvaso lì mi vai che prendono e spacca in tutto lavano poi dopo a rinvaso a posto e lo metto sempre in un vaso piccolino e tutto è un errore perché non è una pianta finita non è un bonsai finito da portare in mostra che tra l'altro anche piante da portare in mostra hanno sempre un contenitore che bene o male è capiente non è che la pianta da una delle sofferenze deve morire perché deve fare una cazzo di mostra cioè bene o male c'è sempre lo spazio sotto per fare radici sufficientemente lunghe e capillari per far campare sta cazzo di pianta cioè non è che potete mettere una pianta come per carità quello il mio bosco di cipressi effettivamente sta in un vaso così però è una pianta che conosco da 20 anni 25 anni sta bene funziona è più è tutta radice di sotto ragazzi il terreno non c'è più lì è solo radici ok perché semplicemente ha riempito e sta tirando su perché se vedete da un po viene proprio sopra la pianta ok perché spinge sotto con le radici però quello è anche quell'altro boschetto che c'ho là tutto radice sono piante che coltivo da 20 25 anni e io so che possono stare lì per altri 20 25 anni guardate sempre se l'acqua scende giù qui un pochettino sta facendo fatica perché è molto saturo ma guardate anche cosa fa la pianta sopra c'è se la pianta in primavera fa sempre dei cacci così tagliate e ve le rifà a posto vuol dire che sta bene vuol dire che ha sufficiente mangiare e acqua e sotto respira bene anche il substrato quindi perché non usare la cadama così facciamo facciamo bingo ok aggiungiamo tutto semplicemente per un terreno che per me fa cagare da quando l'eliminata ho avuto un sacco di risultati la pianta mangia meglio beve meglio e sotto respira tutto meglio perché quando arrivano le gelate ragazzi quella diventa polvere si spappola tutta che diventa sabbia secondo voi una cosa bella molti dicono di sì io dico assolutamente di no comunque saluto tutti claudio bonsai.com perché io volesse iniziare a far bonsai se non capito un cazzo prima di comprare scrivetemi in privato così vi spiego tutto io ci metto 5 minuti a mettervi sulla buona strada mandatemi le foto le vostre piante e vi ripeto che sto mese c'è pure un videocorso dal valore di 97 euro in più c'è anche dominetro quindi il prodotto autunnale professionale a 9 euro 90 invece che 26 90 più di così ok fidatevi così vi divertite ok ciao a tutti ciao 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 ciao